Eva stamattina sono andato alla Fera, a Fera, come dite? A Fera, a Fera, a Fera, a Fera, e c'era la musica del film con Matteo, il giorno stesso, e... Hai fatto una storia? Allora io mi sono fermato e ho detto ma scusami ma com'è che hai questa musica? Come? La musica di Matteo, del film Malarazza. E io ve l'ho detto che Matteo è famosissimo. Ah Matteo è super famoso, anche poi è un bravo bambino. Si fermavano le ragazze che cercavano il disco e lui gli diceva andate dal cinema a vedere Malarazza. La cosa che mi ha colpito e che mi è piaciuta molto è che lui ha detto, aveva lì Gomorra i cd del film, e diceva questo a me non mi piace questo film perché questo le persone incitano alla violenza, invece il vostro film è bello perché si vede una storia vera e si vede che questi ragazzi fanno una brutta fine e sono sicuro che se i ragazzi lo vedono si convincono che devono fare un'altra vita. Dice vedi a me, io faccio qua costi cd, guadagnerò 18-20 euro al giorno, ma almeno sono...